E io sto bevendo dalla tazza di Matteo. Non lo dite a Matteo, per favore. Buongiorno. Buongiorno Matteo, che bello vederti. Questa settimana parliamo dei podcast migliori o più usati per chi sta imparando l'italiano, a tutti i livelli. Però io ho una domanda, prima che vai avanti. Vai. Ma cos'è un podcast? Questa è un'ottima domanda. E secondo me possiamo chiederlo anche a qualcuno qui fuori. Andiamo a vedere un po' se qui fuori sanno che cos'è un podcast. Vai, andiamo. Che cos'è un podcast? È un programma radio che però non va sulle onde radio, ma si mette su internet. Allora, il podcast è qualcosa che si ascolta su diverse piattaforme, tra cui Spotify, per esempio, può essere fatto a capitoli, può trattare di un determinato argomento, per quello che ne so io, insomma. Penso che un podcast sia un'intervista o almeno una discussione con molteplici persone su un determinato topic o argomento. Beh, alla fine, assieme secondo me hanno messo assieme una buona spiegazione di cos'è, anzi sono andati anche oltre. Sì, devo dire la verità, hanno abbastanza centrato in pieno il che cos'è un podcast, no? Cioè in tutto ciò. Perché stiamo parlando di podcast? Stiamo parlando di podcast perché c'è una grossa novità nell'ecosistema di Easy Italian. È pronto? È pronto il podcast di Easy Italian. Easy Italian Podcast e la prima puntata sarà proprio a breve. No, la prima puntata è già, ti dirò di più, la prima puntata è già ieri. Questo è il bello della registrazione di YouTube, di video, tu presenti sei nel passato, nel presente e nel futuro. Perché, anche se non abbiamo registrato ancora la puntata, adesso la puntata è già online. In realtà noi, al di là di introdurre il nostro nuovo nato, il nostro podcast, abbiamo preparato per voi una fantastica lista di podcast destinati esattamente a coloro come voi che stanno imparando l'italiano. Matteo, vuoi cominciare con dirci il tuo podcast preferito per quelli che stanno imparando l'italiano? Una nostra conoscenza. Una nostra conoscenza. Allora, diciamo che non potevo non metterlo, anche perché Katie mi ha amichevolmente minacciato. Altrimenti stanotte dormiva sul divano. Esatto. Con Brody? No, nemmeno, manco, pur senza Brody. Five Minute Italian. Five Minute Italian è il podcast che con Katie, anzi Katie, con una mia presenza ogni tanto, registrava e sicuramente ricomincerà. È un podcast molto, molto breve, 5 minuti, Five Minute Italian, in cui si parla in inglese prevalentemente, ma di tutti quegli errori e quelle curiosità che, diciamo, riguardano la lingua italiana. Ad un livello leggermente più alto necessario per la comprensione c'è un podcast molto particolare che si chiama Con Parole Nostre. È molto carino perché è praticamente condotto da tre ragazze, Elfin, Silvia e Barbara, che vivono in diversi posti d'Europa, diciamo, tra l'Italia e l'Inghilterra. Ed è un podcast che va in onda ogni due settimane e parla praticamente dei temi più disparati, ma in italiano è con un tono molto, come dire, leggero, quasi come se le tre conduttrici stessero chiacchierando al bar davanti a un drink. Un podcast che va un po' più sulle notizie è News in Slow Italian. È una cosa, secondo me, geniale, nel senso che c'è sicuramente in altre lingue, ma è una di quelle cose che ti aiuta tantissimo, sia ad ascoltare l'italiano, quindi, ma in maniera un po' più semplificata, sia ad entrare nella cultura. In questo podcast discutono delle notizie settimanali, in maniera più agevole, ovviamente, di notiziari normali italiani, ma anche parlano della lingua italiana, quindi un ottimo collubbio. Io non posso fare a meno di inserire all'interno di questa lista il podcast di un amico, Davide, e il podcast si chiama Podcast Italiano. E non lo dico perché sono stato ospite di un paio di puntate, attenzione, ma lo dico perché Davide è davvero forte, l'ho visto crescere con questo suo podcast, da piccolo progetto a progettone, se vogliamo dirlo, se vogliamo chiamarlo così, e affronta davvero tutti i temi che possano interessare uno studente di italiano, no? Dalle differenze regionali, dagli usi colloquiali che possiamo trovare in italiano, da tutte quelle che possono essere le curiosità degli stranieri sulla cultura italiana e sulla lingua italiana, e Davide poi ha una cadenza, è un accento molto molto neutro e molto molto chiaro, quindi è perfetto per chi vuole provare anche ad imitare la pronuncia. Quasi, non direi proprio lato opposto, però quasi dal lato opposto ce n'è un altro, che è Learn Italian with Lucrezia, che è, diciamo, specchio o comunque amico molto vicino del canale YouTube di Lucrezia, nel quale, podcast, parla molto e molto anche, a volte anche in profondità, della grammatica italiana, e quindi ci aiuta a imparare l'italiano attraverso lo studio della grammatica, che, a quanto dicono, può essere molto interessante. È molto interessante, perché gli amanti del genere è molto interessante. L'ultimo, o forse il penultimo, è italiano automatico, e qui abbiamo fatto un po' una piccola eccezione. Perché? Perché Italiano è Automatico con Alberto. Alberto è un ragazzo di Brescia e in realtà ha iniziato con un canale YouTube ormai circa dieci anni fa e poi ha cominciato a proporre i suoi contenuti anche in formato podcast e tuttora i suoi contenuti sono disponibili sia su YouTube in formato video che sulle piattaforme podcast in formato solo audio. Però, assolutamente, mi sono sentito di inserire questo podcast all'interno della lista perché spiega non solo alcune particolarità della lingua italiana e anche della cultura italiana, ma anche dei veri e propri consigli generici su come approcciare al meglio l'apprendimento di una lingua, non solo l'italiano, ma anche altre eventuali lingue straniere. Quindi ti insegna un po' ad imparare le lingue in maniera naturale, senza sforzo, se vogliamo dire così. Questo è molto interessante. E poi sono sempre coinvolti nei video e anche nel podcast sua nonna e il suo cagnolino, personaggi sempre presenti. Fantastici. Posso aggiungere un'altra cosa? Vai. A questa fantastica lista mi sembra arrivato il momento di aggiungere finalmente anche il nostro podcast, Easy Italian Podcast. Adesso che siamo partiti è obbligatorio inserirlo nella lista dei migliori podcast per imparare l'italiano. Quando siamo live? Quando sono pronte le nostre puntate e quando vengono pubblicate? Avremo una puntata a settimana e le pubblicheremo il sabato. Quindi ogni sabato ci sarà una nuova puntata del podcast. Con noi due chiacchieriamo e vi raccontiamo una serie di cose. Per ore, ore, ore. No, scherzo, scherzo. Le puntate nostre sono di 30 minuti e, come già detto, sono disponibili sul nostro sito e su tutte le piattaforme maggiori di ascolto podcast. E in più abbiamo riservato anche dei fantastici extra per tutti i membri della nostra comunità. Come i video del nostro canale hanno dei materiali extra, anche i nostri podcast avranno dei contenuti che saranno disponibili soltanto per i membri della nostra comunità. e in particolare abbiamo trascrizione con la possibilità di attivare la traduzione automatica in mille mila lingue straniere. Adesso ne esageriamo. Tantissime. Diciamo tantissime. Poi sai, il numero è sempre un po' strano. Tantissime, tantissime lingue straniere. E in più c'è un altro materiale, il re dei materiali, che si chiama... Il supermateriale. Il Vocab Helper. Il Vocab Helper è un aiuto visivo, disponibile soltanto su alcune piattaforme e anche sul nostro sito, che mostrerà a video le dieci parole più importanti per ogni minuto di riproduzione del podcast e la loro traduzione in inglese. Meglio di così? Cioè, non lo so. C'è qualcosa meglio di così. Non basta? Anche un accesso anticipato per tutti i Patreon. Questo proprio è una cosa... è un po' una ciliegina sulla torta. Non è niente di che. Però tutti quelli che sottoscrivano il podcast avranno la possibilità di ascoltare la puntata un po' prima del normale. Non solo, ma ci sarà anche la possibilità di avere accesso ai fuori onda, ovvero quello che Matteo e Raffaele si dicono, ma che non può andare in onda all'interno della puntata pubblica del podcast. Perché si sa ogni tanto, diciamo, cose che insomma sono un po' private, non si possono dire. È chiaro, no? Raffaele magari si pettina, prepara la scrivania e fa dei commenti. Matteo, insomma, dà la pappa a Brodi. Raffaele ordina una pizza perché è quasi ora di pranzo. Matteo si ingerocisce tantissimo per la pizza che mangia Raffaele, si arrabbia e se ne va. Eh, questi sono contenuti che assolutamente non volete perdere, no? Eh no. Qual è l'invito? L'invito è diventate membri della nostra comunità per avere accesso a tutto ciò, ma l'invito principe di questa puntata è andate ad ascoltare la nostra prima puntata del podcast. Il link è in descrizione. Detto ciò, andrei subito a bomba sulla nostra lista. Sono curioso. Gli italiani ascoltano i podcast? E più che altro, gli italiani ascoltano podcast italiani? Tu ascolti i podcast? Eh, ogni tanto qualcosa, sì. Dipende da quale podcast, ogni tanto li ascolto, sì. Quindi, sì, magari di cucina piuttosto che sport o quant'altro, sì, li ascolto. Hai un podcast preferito? Eh, in realtà non ne ascolto tanti, però c'è uno che mi è piaciuto in particolare, che è il Dito di Dio di Pablo Trincia sulla Costa Concordia. Mi sa, mi annoia soprattutto con i lunghi. L'unico che ho seguito veramente è stato quello dei The Jackal su San Rimo. Quello era molto divertente. Fedez e Luis Sal, ci sono vari episodi, varie puntate. Di cosa parlano? Un po' in generale, molto... dipende, insomma, dipende dalla puntata, dipende dagli ospiti, talvolta di musica, talvolta anche un po' di politica. Qualche podcast in italiano da condividere con chi sta imparando l'italiano? Allora, aspetta... beh, in realtà io ascolto quelli su Amazon Prime, quindi fondamentalmente chi ha Amazon Prime può ascoltare... E soprattutto quelli, ecco, se stanno imparando la lingua italiana, cucina piuttosto che casa, cioè arredamente, cose di questo genere, così magari imparano anche la base, cioè proprio le parole basi quotidiane che si vengono ad utilizzare. Ora così su due piedi non mi vengono in mente, però su Amazon ce ne sono di diversi. Muschio selvaggio di Fedez. Di cosa parla Muschio selvaggio? Muschio selvaggio sono interviste dei personaggi, voglio dire, famosi o con una certa notorietà su differenti topic. Ripendiamo la linea da Milano e Napoli, ringraziamo gli intervistatori Raffaele e Katie per il loro lavoro. Fantastico lavoro. Fantastico lavoro. Mi sento di consigliare in particolare un podcast che è stato già nominato da una delle ragazze che abbiamo intervistato qui a Napoli ed è Il Dito di Dio di Pablo Trincia. Pablo Trincia è il mio idolo. No, addirittura. È uno dei miei idoli. Manco la prima puntata del podcast, giù ti apri così, diciamo, svegli così i tuoi idoli. Trasparenti, faremo una puntata solo su Pablo Trincia. Volentieri. È un giornalista di indagine e di inchiesta, è un poliglotta, è italiano, ma ha origini anche internazionali. E il suo ultimo podcast è questo qui, che ha il nome di Il Dito di Dio, e parla di una tragedia molto toccante, ovvero il naufragio della Costa Concordia, la nave da crociera che qualche anno fa, stavo per dire, si è inabissata. In realtà non si è inabissata. Però non del tutto, si è un po'... Si è adagiata. E questo verrà spiegato, tutto il... viene spiegato all'interno del podcast, tutto il percorso di questa nave, perché ha urtato gli scogli, dove stava andando dopo l'urto, e il motivo, così, diciamo, sovrannaturale, o forse no, o forse naturale, per il quale poi in realtà è tornata indietro ad adagiarsi sugli scogli. Ce n'è uno molto bello, che sono varie puntate, vari temi, anche se, diciamo, il tema principale è la storia, e sono tutte le lezioni di storia di Alessandro Barbero. È un professore di storia, è molto interessante per tutti, non solo per i nerd della storia, anche perché io non mi definisco assolutamente un nerd della storia, però è intrattiene e educativo allo stesso tempo, e c'è una buona, diciamo, un buon amalgama di questi due aspetti, che, insomma, sono fondamentali per un qualcosa, per piacere. Molto bene, lo andrò, io sono appassionato di storia, ho fatto 4-5 esami all'università sulla storia, assolutamente andrò a prendermi... Te lo consiglio, molto. Assolutamente andrò ad ascoltarmi questo podcast, perché sono un appassionato di storia. Grazie per il consiglio. Prego, si figuri. Speriamo che questa lista vi sia utile, sia per iniziare a ascoltare qualche podcast, sia per chi già è nel mondo del podcast, per avervi dato qualche nuova, diciamo, nuovo stuzzicante podcast da ascoltare. Sì, l'obiettivo era quello di prendervi per mano e portarvi nel magico mondo dei podcast, anche per chi magari ne conosce già qualcuno, e introdurvi ai podcast in italiano che potete cominciare ad ascoltare per migliorare il vostro italiano. Speriamo di esserci riusciti, no? Speriamo proprio di sì e direi che adesso tocca a voi. Nei commenti scriveteci un podcast che noi non abbiamo nominato, ma che voi pensate sia molto interessante, molto, diciamo, bello da ascoltare. Ovviamente in italiano. Ciao. Ciao. Ciao.